Ciao a tutti gli amici di Pistacchissimo.it, oggi vi parlo di questa crema di pistacchio realizzata da Sicilian Factory si chiama Opera di Pistacchio, quindi nome importante, è senza lattosio, senza glutine, vegana quindi molto molto particolare, molto interessante, andiamo ad assaggiarla E quindi nome altisonante Opera di Pistacchio, già alza le aspettative, vediamo se sarà all'altezza durante l'assaggio il colore è molto naturale, con questo marroncino leggermente tostato, mi piace veramente tanto in etichetta troviamo il 30% di pistacchio, che come dico sempre è generalmente la quantità di pistacchio minima per avere una buona crema al pistacchio, con tutte le dovute eccezioni, però mediamente è così e poi solo zucchero, olio e burro di cacao, quindi non c'è latte, non ci sono prodotti di origine animale pertanto è senza lattosio e vegana, oltre a essere anche senza glutine, quindi molto interessante Io l'ho presa in un piccolo negozietto, in un piccolo punto vendita a Catania, ma c'è anche lo shop online comunque a fine video lo dirò, sotto vi lascio in descrizione tutti i riferimenti lo ricorderò, ma ve lo sto dicendo già adesso, andiamo ad assaggiare Wow, odore tostatissimo, già colpisce Opera di pistacchio, stai alzando le aspettative, vediamo, vediamo Assaggiamo La consistenza è bellissima, è fluida ma non troppo, veramente molto molto cremosa, fantastica e poi ha questo colore ambrato di pistacchio tostato che mi piace davvero tanto Andiamo ad assaggiare Mamma mia No, vabbè, è spettacolare, buonissima, una delle migliori creme di pistacchio che abbia assaggiato negli ultimi mesi, fantastica, veramente fantastica Allora, il gusto di pistacchio tostato è veramente molto molto forte, fantastico, lo avevo già supposto dal profumo molto intenso, ma l'assaggio ne ho, la conferma, assoluta La base è veramente ben studiata, non ha retrogusti di latte, vaniglia o altro, è veramente molto neutra, con il burro di cacao e l'olio ben bilanciati per esaltare benissimo il gusto di pistacchio e non coprirlo, quindi questo 30% si sente davvero tutto Devo essere sincero, se non avessi letto l'etichetta avrei osato dire che è una 40% Un'altra cosa molto interessante è lo zucchero, perché c'è zucchero di canna e secondo me dà una nota di gusto molto particolare, ogni tanto sentite anche qualche granello di zucchero o meno cosa molto molto rara Complessivamente comunque è una crema abbastanza dolce, però quel gusto di tostatura del pistacchio va a bilanciare secondo me molto bene, mi è piaciuta tantissimo Complimenti quindi a Sicilian Factory, lo ribadisco come gusto di pistacchio ma anche come gusto complessivo, è una delle creme migliori che abbia assaggiato negli ultimi mesi la inserisco immediatamente nella classifica delle migliori creme di pistacchio sul mio sito Non è facile stupirmi con creme di pistacchio perché ne assaggio veramente una quantità spropositata questa mi è piaciuta davvero tanto Come avevo detto a inizio video, in descrizione vi lascio tutti i riferimenti sia del negozio a Catania, sia dello shop online Con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video